Non è da neppure un mese che è terminato il lavoro di restauro del basamento dello Stendardo, che per un periodo è stato circondato da orride transenne stradali. Seppur ci si lamentava per il loro aspetto poco consono, un centro storico erano state posizionate a protezione degli scalini del monumento, massacrati da passaggi di mezzi, auto, furgoni, che a quanto pare non sempre badano a quello che incontrano nel loro cammino. La struttura è appena stata riqualificata, sarebbe stato un peccato che fosse stata subito danneggiata. Le transenne sono state tolte non appena sono arrivate le colonnine, in tema con quelle messe attorno alla colonna di Vigo protetta anch'essa, prima dalle orride transenne e poi da orride piloni. Carine invece le colonnine adatte a un centro storico che dovrebbero sostenere un cordone ad ulteriore protezione dei monumenti, che sembra previsto ma che deve ancora arrivare. Una delle colonnine ieri è stata tranciata di netto, dicono da un camioncino in retromarcia. Visto che il suo compito era proteggere gli antichi scalini di marmo, probabilmente lo ha svolto degnamente a rischio della sua stessa incolumità. Il conducente non si è accorto di nulla, o se se ne è accorto ha fatto finta di nulla. Speriamo di essere smentiti e che ci arrivi comunicazione che si è autodenunciato per pagare il danno. Il luogo, vista anche la sua importanza, dovrebbe essere video sorvegliato e quindi dovrebbe essere possibile visionare i filmati e risalire a chi ha sbagliato manovra. Non si tratta solo di risalire al colpevole per far pagare un danno che altrimenti cadrebbe alla collettività, ma di dare dimostrazione che Chioggia non è un posto dove tutto si può fare, tanto non ci sono controlli e va tutto in fanteria. Si deve fare un cambio di passo, dimostrare che Chioggia è una città attenta, che ha cura delle sue cose e non vuole che vadano danneggiate senza che qualcuno paghi. Il controllo, anche per le piccole cose, diventa un deterrente. Sapere che c'è chi lo esercita collabora nel mantenere ordine e rispetto. Dobbiamo far finta di niente anche stavolta? Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza e va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.